Ciao a tutti, oggi parleremo sui serpenti. Ogni serpente ha un carattere, questo ha un carattere molto curioso. Vicino agli occhi c'è un piccolo cosa che la lingua tira fuori per prendere e tira dentro per sapere cosa c'è di fuori. Poi vi consiglio per dargli da mangiare un topolino morto e scaldate più il muso e meno il corpo e poi con le pinzette farlo muovere per farlo fare più vivo possibile. Oppure lo date vivo e così lo caccia. Ciao, al prossimo video!